Abbiamo presentato qualche giorno fa nella sala della concordia del Comune di Fano lo studio socio-economico che abbiamo commissionato a Demoscopica con l'obiettivo di dare supporto possibile alle attività commerciali del centro storico e negozi di vicinato. Con noi c'era il presidente di Demoscopica Raffaele Rio, c'era il giornalista Luigi Chiarello che gestisce, direttore di uno dei quotidiani più importanti di economia a livello nazionale che è Italia Oggi e lo studio ci porta in evidenza alcuni dati veramente importanti tra i quali un cittadino su quattro acquista in centro storico, altri preferiscono effettuare acquisti online o acquistare in altri luoghi. Sicuramente gli acquisti si stanno spostando online e quindi va realizzato un progetto per aiutare le attività del centro storico a lavorare anche in questo settore o gli stessi imprenditori hanno necessità di adottare misure per lavorare nel settore dell'online. Un dato su tutto, c'è una grande identità del centro storico, il centro storico piace, molte persone vengono nel centro storico ma purtroppo la maggior parte vengono per farci delle passeggiate perché oggi purtroppo non trovano una varietà merceologica tale che pensano al centro storico come zona d'acquisto, pensano al centro storico come zona di relax, ci fanno acquisti soprattutto di abbigliamento ma quando si tratta di beni di consumo, di altre attività magari acquistano altrove. Quindi dobbiamo inquadrare un'azione che faccia crescere la merceologia presente in centro storico e che aiuti appunto alle nostre attività. Un altro dato importante è che purtroppo ancora il 68% dei fanesi usa la macchina per arrivare in centro storico, quindi dobbiamo aumentare una cultura della mobilità sostenibile di arrivare in bici e a causa del fatto che il 68% arriva in macchina purtroppo c'è poca disponibilità di parcheggi, quindi anche qui un percorso che già stiamo facendo da tempo con il Pums che occorre accelerare, abbiamo bisogno di un sistema, di un piano dei parcheggi laterali al centro storico per far sì che le persone possano parcheggiare direttamente o fuori dal centro storico e arrivare tranquillamente a piedi nel centro. Questa è una prima parte dello studio che abbiamo commissionato, tra poco partirà l'indagine questa volta agli imprenditori, perché ovviamente abbiamo bisogno di capire anche il comportamento degli imprenditori, dopodiché con entrambe le indagini potremmo fare attivare delle misure chiave che appunto aiuteranno questo comparto così in difficoltà a livello italiano e anche nella nostra città. Grazie.